Scoperto un maxitraffico internazionale di stupefacenti tra Puglia e Albania. 37 arresti e sequestri per 4 milioni di euro nella vasta operazione della DIA di Bari e delle autorità albanesi, con l'ausilio della Criminal Poll, dell'Ufficio di Collegamento Interforze di Tirana e della Polizia Albanese e la collaborazione in Italia di Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza e della DIA di Foggia, Lecce, Bologna, Roma, Napoli e Catanzaro. Nel corso delle indagini sono state sequestrate circa 3 tonnellate e mezzo di droga tra marijuana, cocaina e hashish per un valore di oltre 40 milioni di euro, corrispondenti a circa 7 milioni di dosi.